ciao se sei qui sicuramente perché sei alla ricerca di un corso un videocorso sul come vendere su amazon vorrei presentarmi in primis sono stefania siamo una delle corsiste di nico cimmino vorrei consigliarti il nostro corso per tantissimi motivi ma il più importante di tutti e capirai a breve perché è la disponibilità di nico è un tutor h24 praticamente puoi mandargli un messaggio per chiarire qualunque domanda qualunque dubbio anche le più insignificanti lui è lì che con tanta pazienza ti aiuta a capire il dubbio il problema che tu hai e non è cosa da poco molti ti rifilano il videocorso finisce lì scompaiono e tu hai dubbi hai domande e nessuno è lì pronto a chiarirle lui invece sì lui è lì pronto per chiedere ogni tuo dubbio e l'unico corso in italia perennemente aggiornato cioè noi siamo perennemente aggiornati su tutto quello che c'è da sapere su tutte le cose che escono come il nuovo modulo covip le modalità di lancio europeo ppc facebook ads marketing estero abbiamo oltre 50 metodi di ricerca prodotto e in più un nuovo metodo di pro di vendita del prodotto ideata proprio da nico abbiamo infinite call cioè finché tu il tuo business non sarà avviato hai delle call infinite puoi chiamarlo a fare le video lezioni insieme a lui non hai scadenza finché tu non sei avviata finché tu non sei pronta proprio per questo dicevo lui al cuore il tuo successo finché tu non sei avviata lui è lì che ti segue è un corso a 360 gradi quindi one to one non delega nessuno è soltanto lui e noi lezioni singole così lui sa chi sei tu non sei un numero ma bensì una persona un corsista sa da dove parti sa dove vuoi arrivare sa con cosa parti perché ognuno di noi ha dei budget differenti di partenza è sempre cosa non da poco è un corso dedicato a chi ha le prime armi a chi no a chi si è bloccato dato il fatto che magari come dicevo prima ha comprato un corso un videocorso ed è rimasto lì con tutti i dubbi è completissimo adesso detto ciò spero di averti aiutato almeno un po' a sciogliere i tuoi dubbi spero di trovarti nel nostro gruppo bocca al lupo per tutto